L'appuntamento di questa settimana di Tra le Righe ci porta a conoscere un libro che unisce la psicoterapia al Vangelo, edito dalle Paoline, il sottotitolo è per il benessere psicologico, appunto psicoterapia e Vangelo ed è scritto dal dottor Giovanni Barrale in collegamento Skype con noi. Buonasera dottor Barrale e benvenuto, lei è psicoterapeuta specialista soprattutto in psicoterapia cognitiva e comportamentale. Allora, prima di chiederle qual è il filo che unisce la psicoterapia al Vangelo, ci spiega che cosa è la psicoterapia? Bene, la psicoterapia, volendo utilizzare una definizione usata nella pagina introduttiva al libro dello psichiatra italiano Giovanni Gervis, il quale definisce psicoterapia una qualsiasi forma di aiuto che viene data a un soggetto che sta vivendo una condizione di disagio psichico e che quindi ne fa richiesta da parte di un'altra persona che è in qualche modo deputata alla competenza per poter dare questo aiuto, dice Giovanni Gervis. Bene, che cosa succede? C'è uno scambio, uno scambio relazionale tra queste due persone e quindi c'è uno scambio di informazioni ma c'è uno scambio anche di emozioni, di sentimenti. Quindi all'interno di questa relazione si creano le condizioni per poter dare aiuto alla persona. Quindi l'elemento relazionale è l'elemento centrale. Oggi sappiamo che l'elemento, il cuore, il cuore della psicoterapia è appunto la relazione. Esistono infatti diverse forme di psicoterapia che fanno riferimento a modelli teorici che sono diversi e che utilizzano delle tecniche diverse. Però c'è questo elemento comune, questo comune denominatore che è appunto la relazione. Che cosa concretamente avviene all'interno di questo percorso di psicoterapia? Che la persona ha l'opportunità di acquisire una serie di consapevolezze, acquisire delle conoscenze, conoscenze che riguardano in principal modo la conoscenza di sé. Quindi la persona ha l'opportunità di conoscere se stessa mediante questo rapporto, di conoscere la propria storia, di conoscere i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri sentimenti. Chi sono io? Quindi all'interno di questo percorso la persona riesce a trovare anche le ragioni per comprendere le motivazioni del suo dolore e della sua sofferenza e per cercare insieme al terapeuta le soluzioni per un miglioramento della sua condizione. Ecco dunque è stato molto chiaro nel spiegarci che cos'è la psicoterapia, però ecco appunto che cosa le unisce? Qual è il filo, qual è l'anello che unisce la psicoterapia al Vangelo? Innanzitutto l'idea è che è possibile cambiare. Il proclama con cui Gesù inizia la sua predicazione è quello che tutti noi conosciamo, convertiti e credi. Quindi all'interno di questo ammonimento, di questo incitamento da parte di Gesù c'è la consapevolezza che per l'uomo è possibile un cambiamento. Questa considerazione è la stessa considerazione della psicoterapia. Se tu stai vivendo una condizione di dolore puoi cambiare e puoi migliorare la tua vita, quindi il cambiamento è possibile. Lei scrive che una delle buone notizie dei Vangeli è questa, cambiare si può. Qual è il cambiamento che lei intende? Il cambiamento è qualche cosa che deve essere visto come positivo, come capacità di adattamento alla vita, alle nuove situazioni che la vita ci propone. Quindi che cosa dobbiamo cambiare? Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, ad esempio. Il nostro modo di vedere il mondo, di concepire determinati aspetti del mondo. Il nostro modo di pensare a noi stessi. Per esempio, la persona che vive uno stato depressivo può avere un modo di pensare a se stessa che è negativo. Io non valgo, io non ho valore, io non riuscirò ad affrontare determinate situazioni. Quindi i cambiamenti riguardano il modo di percepire se stessi, di concepire se stessi, il modo di pensare il mondo e c'è anche un cambiamento che attiene a quello che è la sfera emotiva e quindi affettiva della persona. Cioè, più io riesco a modificare il mio modo di relazionarmi con me stesso e con gli altri, più avvertirò un cambiamento anche da un punto di vista emozionale. È un cambiamento che avviene comunque all'interno di una cornice relazionale, che è quella terapeutica, che si estende anche al di là di quello che può essere lo studio dello psicoterapeuta. Quindi che si estende al di fuori e che invade la strada, la vita, come si dice anche in un capitolo del libro. Dottor Barrale, in un capitolo lei tratta la psicoterapia nelle parabole. Quindi anche Gesù utilizzava la psicoterapia per stabilire un contatto con le persone? Bene, sicuramente Gesù utilizza le parabole per far comprendere il suo messaggio. In ogni parabola c'è un racconto, chiaramente c'è una storia con un'ambientazione, quindi c'è un personaggio principale, ci sono altri personaggi, coprotagonisti, c'è una trama, c'è una conclusione. Quindi all'interno di ogni parabola, Gesù ne racconta tantissime, c'è un significato che va colto e che è un significato sicuramente che cerca di farci comprendere alcune realtà profonde. Lo strumento utilizzato dalla parabola, che è quindi un racconto, è uno strumento, è lo strumento della metafora. Il racconto utilizza la metafora. La metafora è la possibilità di associare su uno stesso piano semantico due realtà differenti. Il racconto è uno strumento utilizzato da tutte le psicoterapie, possiamo dire, e quindi Gesù lo utilizza appunto per riuscire a parlare, ad entrare in relazione con la persona. Per esempio, nel racconto della parabola dei talenti, Gesù vuole comunicare a ogni persona che ciascuno ha dei talenti e che questi talenti devono essere messi a frutto, quindi devono portarci a un miglioramento della nostra condizione, che non dobbiamo nasconderci, nascondere il talento, e che non dobbiamo negare di avere dei talenti, quindi dobbiamo diventare consapevoli di quelle che sono le nostre qualità e queste qualità devono essere messe a frutto. Ma ci sono tantissime altre parabole, c'è la parabola del buon samaritano, che in qualche modo sintetizza quello che potrebbe essere il rapporto terapeutico, perché c'è un soggetto che vive una condizione di dolore a causa di un'aggressione subita e c'è un buon samaritano che se ne prende cura, se ne fa carico. In questo caso potrebbe essere il terapeuta, ma potrebbe anche essere la persona che si incontra tutti i giorni e che attraverso il suo intervento riesce ad aiutarci nel nostro processo di guarigione. Domanda conclusiva della nostra chiacchierata. Chi si sente di raccomandare il suo libro? Allora, io consiglio il mio libro a diverse persone. Lo consiglio al credente, il quale potrà rapportarsi a queste conoscenze del Vangelo. Vedente questo tipo di lettura potrà comprendere, scoprire la grande ricchezza terapeutica che si nasconde nelle pagine dei Vangeli. Ma lo consiglio anche al non credente, perché nel libro si parla di psicoterapia, di che cosa è la psicoterapia, in che modo la psicoterapia ci aiuta a raggiungere il nostro benessere. E quindi c'è una lettura che può essere apprezzata sia dal credente che dal non credente. Lo consiglio anche a tutte le guide spirituali e ai sacerdoti, perché mediante questa lettura psicologica, psicoterapica, possiamo dire, di alcune pagine del Vangelo, si possano acquisire delle conoscenze che potrebbero poi risultare utili nel lavoro di accompagnamento spirituale dei fedeli. E lo consiglio infine a tutti i terapeuti, anche ai terapeuti che non sono cristiani. Perché? Innanzitutto perché si possa scoprire la grande ricchezza terapeutica della pagina dei Vangeli, che sicuramente sono dei testi importanti, importantissimi per la nostra cultura, perché sono alla base della nostra cultura occidentale. E quindi riuscire a conoscere questa grande ricchezza sicuramente è un arricchimento. E anche perché il terapeuta potrà utilizzare questo tipo di lettura, queste conoscenze, le metafore per esempio del Vangelo, nel lavoro terapeutico con soggetti che possono fare riferimento alla fede cristiana, quindi a quello che è il pensiero cristiano, per poterli aiutare nel percorso di cambiamento e nel percorso terapeutico. Grazie al dottor Giovanni Barale per essere stato con noi, ricordo il titolo del suo libro, Psicoterapia e Vangelo per il benessere psicologico, edito dalle Paoline. Grazie ancora per essere stato con noi e alla prossima occasione. Grazie a tutti.